un saluto a tutti gli utenti di Italia Medievale oggi presentiamo un bel saggio dal titolo bevagna dall'antichità al medioevo vicende urbanistiche ed emergenze monumentali a cura di Maria Romana Picudi e Guglielmo Villa appena pubblicato da Futura Libri e noi abbiamo il piacere di avere con noi entrambi i curatori e quindi io come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio subito a voi la parola chi parte? parto io prego dottor Rosa prego buonasera presidente io innanzitutto la ringrazio per aver creato appunto quest'occasione quindi di incontrarci di conoscerci e di presentare questa questo nostro eh lavoro eh devo dire sono rimasta abbastanza stupita che nel giro di un mese e mezzo lei avesse già individuato l'uscita di questo eh nostro lavoro ma eh c'è da dire che sono abituata eh a vedere come eh Italia medievale sia sempre così attenta no a tutte le nuove uscite alle manifestazioni tanto che già in passato eh avevamo avuto l'occasione di essere accolti nel vostro blog per eh degli studi su foligno medievale e anche sugli scavi dell'abbazia di Sassovivo che abbiamo condotto con la scuola di specializzazione ehm in beni ehm in beni in beni architettonici del paesaggio scusi un po' di emozione e della Sapienza Università di Roma tra il duemila e quattordici e il dieciassette quindi diciamo ecco la sua attenzione l'attenzione eh delle di Italia medievale è sempre molto alta la pubblicazione nasce da un progetto dell'amministrazione comunale di Bevagna eh grazie a un contributo della fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia e dell'associazione Mercato delle Gaite eh e poi dalla volontà del del sindaco Anna Rita Falsacappa eh che ha inteso concentrare l'attenzione appunto sulle sulle sull'urbanistica e e le emergenze monumentali eh di Bevagna eh questo è un centro che nota a tutti che a partire dagli anni ottanta è sede del del mercato delle Gaite e eh appunto so anche che ehm la Italia medievale ha premiato nel duemila undici l'associazione come nel premio nella sezione eh turismo ehm ecco l'occasione eh di questa di questo studio della pubblicazione nasce dalla valorizzazione eh di una copia del Tacuinum Sanitatis un eh manoscritto per gamenaceo conservato presso eh la biblioteca eh comunale di Bevagna. L'occasione è stata la realizzazione di una sala multimediale all'interno del museo e appunto eh attualmente è possibile vedere le le quaranta pagine eh che costituiscono il Tacuinum ehm in un in un touchscreen e quindi sfogliarlo e eh e consultarlo. Il Tacuinum eh era è stata proprietà sappiamo che eh era proprietà di un giure consulto di un letterato eh di origine bevanate Francesco Torti ma non sappiamo di preciso quando questo è arrivato eh e ehm non conosciamo bene le vicende di questo arrivo. Giusto due parole eh su quest'opera che è diventato appunto lo spunto del nostro studio eh eh si tratta di una copia di di una traduzione eh il in latino del del trattato di medicina eh arabo che è stato realizzato eh compilato eh a Bagdad e eh è scritto in gotica rotonda e risale al quattordicesimo secolo. A questo è stata dedicata all'interno della pubblicazione una scheda firmata da Fabio Maccarelli e ammarita eh falsa K. Comunque per entrare eh in merito eh alla pubblicazione Bevagna dall'antichità al medioevo si tratta di un un'opera realizzata a quattro mani mh mh con il professor Guglielmo Villa e eh eh appunto io ho curato la parte antica e la parte romana e mentre poi Sor Villa ha eh approfondito ha trattato quella medievale. La pubblicazione si arricchisce anche dal contributo eh del dell'architetto Arianna Carannante che ha ehm realizzato una scheda sul palazzo eh dei consoli. Eh parlando della bevagna medievale non si può fare a meno appunto di eh spendere alcune parole sulla bevagna romana eh e soprattutto trattandosi di un sito pluristratificato eh ovviamente eh la 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 bevagna medievale eh riporta appunto eh il segno è stata correttamente condizionata dalla città eh romana. Eh nel nello studio ho cercato di mettere eh in evidenza le dinamiche insediative del centro cioè le caratteristiche idrogeologiche del luogo a Bevagna praticamente ehm confluiscono eh una rete eh di di fossi di drenaggio di torrenti che appunto ehm trasportano le acque drenano le acque della valle umbra meridionale a partire da Spoleto eh in poi Bevagna inoltre è era lambita dal dal fiume Clitunno e dal fiume Topino eh che eh fino al 1590 formavano un lago un un invaso nel che che lambiva proprio le 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 mura medievali e anche romane del centro fino al 1590 perché poi il Topino l'antico continia delle fonti latine è stato deviato e quindi proprio per ovviare i contini allagamenti ai problemi delle acque che impedivano appunto una una gestione del territorio eh quindi ecco questa è una delle caratteristiche del luogo. Oltre a questo per parlando del della dello sviluppo urbanistico di Bevagna non si può tenere conto di un'altra realtà è il fatto che si trovi in un punto d'incrocio eh di due itinerari itinerari molto importanti itinerari stradali. Il primo è la è il braccio occidentale della via Flaminia e il secondo invece è una strada che da un lato porta verso eh verso Perugia l'antica Perusia quindi verso il Tevere verso Ovest e dall'altro invece verso la Valle Umbra a Spoletium eh e l'attuale Spoleto e mh appunto e queste sono ben o male il i i nodi diciamo che eh possiamo possiamo considerare all'origine di questa scelta del del di questo rilievo perché Bevagna sembra una città di pianura in realtà sorge su un un rilievo allungato che comunque si erge al di sopra della della Valle Umbra di quello che un tempo erano dei terreni paludosi eh di Bevagna nell'antichità conosciamo le origini più antiche eh cioè due nuclei insediativi di epoca preromana di eh Umbra eh che sono stati individuati all'interno del 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 centro abitato ehm ovviamente in quel periodo non abbiamo in Umbria delle realtà eh urbane ma parliamo di più villaggi di di pagi e vici no che poi attraverso un sinecismo arrivano a realtà di ben altra sviluppo urbanistico eh ma questo pensiamo che possa essere avvenuto solo con l'entrata ehm di Bevagna nell'orbita eh romana quando in realtà il centro aveva un suo un suo ruolo rivestiva un ruolo di grande importanza per i centri della Valle eh della Valle Umbra in quel periodo in quanto la documentazione epigrafica ci testimonia che eh Bevagna e l'antica Bevagna in quel periodo eh fungeva come polo di riferimento sia dal punto di vista politico che eh religioso e questo è tastato epigraficamente a partire eh da dal secondo secolo avanti Cristo mh per quanto riguarda queste fasi più antiche conosciamo dal punto di vista archeologico poco perché il centro non è stato mai indagato sistematicamente ma abbiamo notizia sempre dalle fonti latine Vitruvio e Plinio il Vecchio dell'esistenza di una cinta muraria in laterizio e questo lo apprendiamo per confronto eh nel in un passo in cui si parla del delle mura eh con realizzate con mattoni crudi del centro etrusco di Arezzo e siamo intorno al terzo secolo ehm avanti Cristo ehm poi ecco altri altri documenti cioè ritrovamenti archeologici di un certo rilievo per il secondo secolo avanti Cristo eh li ritroviamo nella zona nel complesso monumentale di via primo maggio eh dove sembra vada localizzato un santuario dedicato alla dea valetudo la dea della eh della salute e la dea della potenza eh militare un la conosciamo esclusivamente eh dal dalla presenza di di un collegio sacerdotale che si occupava appunto del culto e di cui rimangono molte eh molte attestazioni epigrafiche poi sempre del secondo secolo avanti Cristo abbiamo i recentissimi ritrovamenti di piazza ehm Sant'Agostino che attendono ancora di essere pubblicati e poi ecco eh riusciamo a eh a capire come eh in fondo la città avesse già un suo sviluppo una sua organizzazione dalla presenza dell'acquedotto e come grazie al all'esistenza eh di pozzi di cisterne di condotti eh che eh ancora in parte funzionanti e che hanno funzionato eh anche fino fino a tempi eh recentissimi e dal fatto che eh esistono dei cippi confinari eh che eh che documentano l'esistenza di un acquedotto alla fine del secondo secolo avanti Cristo per cui se non abbiamo la stratigrafia archeologica gli edifici archeologici per tutta la l'estensione del dell'area urbana di Bevagna siamo certi che esistesse già una eh un centro urbano organizzato con il suo acquedotto eh funzionante appunto eh dall'altro conosciamo possiamo immaginare una strutturazione di tipo urbana eh in questo periodo anche grazie all'esistenza eh delle necropoli che situate al di fuori del centro urbano comunque sono piuttosto risalenti nel 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 tempo nel senso che documentano l'esistenza del centro già eh in questo periodo tardo eh repubblicano eh e eh tra l'altro ci eh danno eh il negativo diciamo anche i limiti di quelli che dovevano essere eh di quello che doveva essere l'estensione urbana ecco se dobbiamo eh in particolare vedere come la città romana ha influenzato quello che è lo sviluppo medievale e la città moderna eh possiamo mh possiamo citare eh in primo luogo l'impianto cittadino cioè eh questa posizione di crinale la collocazione degli edifici principali lungo la via Flaminia eh che che poi eh costituisce il il decumano massimo che attraversa il centro eh da sud verso nord e anche il reticolo viario formato appunto dall'intreccio del decumano massimo con eh i Cardines un piccolo approfondimento sulla via Flaminia va detto che forse nel momento in cui Bevagna eh va sviluppandosi eh dal punto di vista urbanistico la via non era ancora eh la Flaminia eh vera e propria ma era un itinerario itinerario comunque di eh di una certa importanza eh sicuramente quest'itinerario venne valorizzato in epoca augustea da dall'imperatore Augusto e eh e presa un po' prendendo un po' il diciamo eh drenando un po' del 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 traffico eh che eh originariamente appunto passava lungo il braccio orientale quello per Spoletsium ma eh cioè sappiamo che la via Flaminia partendo da Roma all'altezza di Narni si divideva in due bracci e uno quell'orientale passava appunto per Spoleto l'antica colonia fondata fin dalla fine del terzo secolo avanti Cristo eh mentre in epoca successiva appunto l'altro braccio passava per Carzule eh Vicus ad Martis l'attuale massa martana e poi eh attraversava Bevagna e proseguiva Firo Fuorum Flamini eh attuale San Giovanni Profiamma frazione di Foligno dove i due bracci si riunivano per ehm per completare appunto l'itinerario fino a Fano e eh Rimini a Riminum. E quindi ecco oltre a all'impianto generale cittadino ci sono alcuni monumenti che eh sicuramente hanno hanno caratterizzato il panorama cittadino medievale e tuttora lo caratterizzano. In primo luogo è il tempio su alto podio che troviamo eh in via Crescimbeni all'incrocio dei due itinerari nella zona del trivio di cui parlavamo all'inizio e eh poi il teatro romano eh di eh di primo secolo eh del fine del primo secolo eh avanti Cristo eh epoca augustea che appunto con la sua forma semicircolare di cui rimangono ancora i i due ambulacri maggiore e minore ha caratterizzato un un tipo di insediamento medievale minuto che eh che ha seguito l'andamento del dell'edificio da da spettacolo. Poco rimane del del frontescena in quanto inglobato dentro gli edifici successivi mentre il gli ambulacri sono tuttora visitabili eh in due diverse attività in un caso si tratta di un eh di un ristorante un luogo di grande di di grande impatto visivo e nell'altro caso di eh di una di una realtà di tipo turistica eh appunto dove mh è facile e accedere e quindi eh fare vedere come era in origine eh l'ambulacro mh del teatro. Eh un altro monumento di eh di una certa importanza è che è la 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 cinta muraria una grande realizzazione anche questa di fine primo secolo eh avanti Cristo di cui rimane il nucleon cementizio e la e mh tratti del rivestimento in opera in opera eh vittata. La cinta ci aiuta a renderci conto più o meno quale dovesse essere l'estensione della città romana ma purtroppo alcuni mh alcuni punti eh crolli eh alcune mancanze ci impediscono eh di definire appieno la città romana che probabilmente nella zona più settentrionale eh quella verso eh via ehm viale Properzio i ritrovamenti di via Primo Maggio doveva estendersi eh ben oltre eh l'impianto appunto medievale. Eh ecco un altro complesso di grande eh rilevo architettonico eh e mh d'epoca romana è quello che eh si estende tra Corso Matteotti e via Santa Margherita. Eh si tratta di una di una grande realizzazione sulla quale poi è sorto uno dei 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 conventi più importanti eh della Bevagna Medievale quello dei Domenicani con con la chiesa appunto dedicata a San Domenico che si apre eh si affaccia sulla piazza principale quella eh di Filippo dedicata a Filippo Silvestri e è una realizzazione architettonica di grande respiro in quanto eh realizzata in opera mista eh di reticolato e eh di eh laterizi ehm si sviluppa su un due su due livelli creando una grande quinta eh architettonica eh affacciata sul sul clitunno e su quello che era eh l'invaso originario ed epoca eh d'epoca romana e eh probabilmente aveva la funzione da un lato eh veniva utilizzata come ehm come luogo di immagazzinaggio e probabilmente eh in relazione proprio al al porto e dall'altro invece superiormente aveva mh era servito per regolarizzare i fianchi scoscesi del del rilievo su cui sorge Bevagna si ipotizza eh in relazione a qualche ehm realizzazione di tipo architettonico pubblico o sacro un tempio una basilica e niente io mi avvio alla conclusione l'altra cosa che è importante credo da da sottolineare per quanto riguarda eh lo sviluppo del eh urbanistico del centro di Bevagna e la presenza del foro eh del foro romano rispetto alla piazza eh medievale eh in realtà a fin a partire dai primi anni del novecento seguendo gli studi di Guido Boccolini uno studioso locale che fece un bello studio eh sulla sulla Bevagna romana si ipotizzava che eh la il foro si localizzasse nel quel trivio di cui parlavamo in precedenza dove l'itinerario no della via Flamini e quello proveniente da Perugia incrociano perché in quel punto mh cioè nelle vicinanze si trovano sia il teatro che abbiamo appena menzionato sia il il tempio su su podio sia le terme romane in realtà è un recente studio di ehm di Vladimiro Cruciani a eh tende a spostare questi il foro eh dalla la zona del Trivio alla piazza Silvestri quindi sotto la 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 piazza medievale la la piazza di principale eh di Bevagna sia sulla base di alcuni ritrovamenti recenti ehm relativi a un edificio che sorgeva ad est della via Flaminia e quindi delimitando quel lato del foro sia sulla base di alcune iscrizioni eh onorarie che provengono da questa zona eh relativi probabilmente sicuramente a a donari edifici e comunque ehm opere ehm opere pubblico pubbliche. Dall'altro c'è anche il il ritrovamento in questa zona di un'iscrizione molto faramentaria purtroppo in cui si menziona Minerva e alcune lettere permettono di leggere la ehm anche un altro nome che è quello di Giove. Sappiamo che il culto di Minerva quello eh di Giove e quello di Giunone erano generalmente collegate alla presenza di un capitolium o il tempio principale per un centro romano quindi questo ci porterebbe a eh ipotizzare la presenza del foro in questa zona eh anche grazie al ritrovamento nel settecento nella nella vicina chiesa eh di di San Filippo di un di una di una statua eh partenente a Dioniso che potrebbe far pensare all'esistenza appunto di un tempio a lui dedicato. Ecco i dati in nostro possesso non sono molti e bisognerebbe appunto riprendere l'indagio. Intanto noi abbiamo cercato di leggere quello che che era possibile di metterle in fila eh proprio in vista di studi futuri. Bene io la ringrazio e darei la parola al professor Guglielmo Villa. Grazie. Prego. Questa pubblicazione nasce come è stato ben eh sottolineato da una occasione di carattere contingente potremmo dire e anche da un obiettivo eh che non è eh un obiettivo strettamente scientifico perché eh ovviamente eh nelle intenzioni della eh amministrazione comunale eh prevale prevaleva e continua a prevalere evidentemente una necessità eh di carattere divulgativo. Eh l'impostazione eh del lavoro ha ha cercato di contemperare questo obiettivo di carattere generale con delle esigenze di eh coniugazione diciamo così di aspetti eh invece più strettamente legati alla ricerca viva sul campo eh e da questo deriva eh ovviamente l'impostazione eh complessiva eh della della pubblicazione eh per la quale eh evidentemente dobbiamo certamente un ringraziamento particolare all'amministrazione per il suo interessamento e per la sua affattiva eh attività eh che ha consentito sostanzialmente la eh la realizzazione anche in un tempo relativamente breve tutto sommato del del progetto. Eh la eh storia della città medievale che quella di cui mi sono in particolare occupato eh inizia tutto evidentemente dove eh dove eh la città antica sfuma eh nel senso che dove la città antica eh perde eh la sua in parte almeno la sua identità perde la sua consistenza perde potremmo dire quasi le ragioni della sua passata eh ricchezza della sua passata gloria eh anche eh e questo è un un fenomeno che ha in qualche modo eh costretto noi a impostare almeno una parte di questo eh di questo ragionamento eh su un un tema fondamentale che è un tema storiograficamente eh estremamente complesso evidentemente anzi potremmo dire una sorta di vexata questio eh che riguarda le origini della città medievale e i suoi rapporti eh con la città antica eh che è quello del come dire rapporto dialettico tra continuità e e trasformazione. Eh eh un rapporto che eh nel caso di Bevagna assume degli essiti particolarmente significativi o meglio eh presenta degli effissiti verificabili particolarmente significativi quasi mi verrebbe voglia di dire emblematici perché eh perché eh nelle sue origini romane eh Bevagna ha tutti i tratti eh di una città di un insediamento e poi di una città che si struttura eh grazie alle relazioni che la struttura insediativa instaura o istituisce con il territorio a più livelli direi. Il primo ovviamente eh è quello delle eh capacità produttive del territorio e quindi le risorse d'acqua quelle agricole eh che costituiscono in qualche modo la sostenibilità il meglio il principio di sostenibilità eh che consente all'insediamento di svilupparsi l'altro eh è il rapporto invece con le vie di comunicazione quelle eh acquatiche di cui si è fatto scelto quelle terrestri e in particolare tra queste la via la via Flaminia quando la via Flaminia si struttura perché è proprio da questa strutturazione ovviamente che lo sviluppo della città eh deriva. È inevitabile eh che questo legame non si spegne anzi nemmeno sfuma quando eh la città romana declina e declina anche inevitabilmente come tutto il sistema come in tutto il sistema dei delle infrastrutture romane la rilevanza potremmo dire così almeno alla grande scala eh del sistema di comunicazioni la sua praticabilità e la sua efficienza in qualche modo eh ma cambia evidentemente di segno eh una strada importante come la via Flaminia è in età romana un fattore di ricchezza assoluto è anche un fattore attraverso la quale una struttura insediativa una città può instaurare eh dei collegamenti a breve certo ma anche a lungo a lungo a lunghissimo raggio è quello che era certamente accaduto a Bevagna soltanto nel collegamento cioè nel rapporto con Roma l'amministrazione centrale ma anche con il centro settentrione della della penisola eh in età imperiale soprattutto eh è evidente che quando invece il ruolo di questa grande strada eh declina eh il suo eh così è la sua rilevanza eh diventa quasi una rilevanza negativa nel senso che la perdita di importanza di questa di questo tracciato soprattutto dopo la occupazione di Longobarda per il privilegio per la scelta di privilegiare evidentemente il tracciato che eh passava per per Spoleto fa sì che anche i traffici commerciali che una volta interessavano Bevagna parlo di quelli a lungo raggio in maniera particolare tendono a declinare tende a declinare evidentemente il peso economico della della città perché questo ha così tanta importanza per la storia della città e le sue trasformazioni cioè la nascita della città medievale perché è evidente che la perdita di importanza dal punto di vista economico commerciale di una struttura insegnativa corrisponde eh anche al generalmente accettato dal da molte fonti ad una sua ad un suo ridimensionamento demografico eh si perde popolazione questo non è un fenomeno esclusivo veramente è un fenomeno di largissima eh portata per appunto la fine dell'età antica in parte questa popolazione si perde perché la gli abitanti eh residui preferiscono eh trasferirsi in campagna dove eh il legame con il rapporto di produzione è più stretto evidentemente e soprattutto c'è una maggiore eh sicurezza perché eh la campagna è lontano dai centri di accumulazione della ricchezza e quindi inevitabilmente meno soggetta a sacchegge e scorrerie eh la popolazione stessa poi diminuisce eh per ragioni anche di carattere eh di carattere diverso che appunto dipendono da un declino eh continuo anche se non lineare potremmo dire così eh della della popolazione e questo è assolutamente rilevante anche per la vita delle strutture materiali perché una popolazione così ridotta e una ricchezza così ridotta eh comportano evidentemente una diminuzione drastica delle capacità eh di manutenzione delle infrastrutture urbane eh della eh necessità potremmo dire di occupazione eh dei dei suoli le grandi domus romane perdono completamente la loro rilevanza la loro importanza la loro necessità d'essere perché popolazione una popolazione più povera e più ridotta di numero ha bisogno di meno spazi e ha bisogno anche di spazi come dire meno articolati eh più poveri potremmo sinteticamente sinteticamente dire e questo si riflette inevitabilmente anche proprio nella consistenza materiale eh delle di queste di queste strutture. C'è un altro eh aspetto però che non bisogna eh evidentemente sottovalutare eh per per niente è che è un aspetto legato o meglio che lega eh la dimensione politico-amministrativa a quella della realtà materiale che noi teniamo sempre eh in come dire in primo piano nella nostra eh nella nostra protozione. Eh perché ehm l'arretramento delle capacità di incidenza potremmo dire così direttamente sul territorio dell'amministrazione imperiale e poi anche delle amministrazioni locali di conseguenza eh comporta anche un allentamento di quelli che sono i vincoli giuridici eh che eh mettono in comunicazione o meglio che limitano il rapporto tra eh pertinenze pubbliche e pertinenze private e questo è anche un altro fattore di trasformazione. L'essito di tutto questo evidentemente è che il tessuto della città muta e muta radicalmente. Non succede questo in pochi decenni evidentemente. È un fenomeno di lungo periodo eh sappiamo per certo sia dalle evidenze archeologiche in particolare anche per Bevagna eh sia dalle dalle evidenze documentarie e questo vale sia per Bevagna che eh per moltissimi e altri centri quasi in realtà per la generalità eh dei centri italiani che avevano avuto una storia antica cioè una storia romana quanto quanto meno. Comporta evidentemente eh una modificazione del modo di occupare il suolo urbano eh si trasformano le case le case diventano più piccole eh di dimensioni più il più frazionate le insule eh si trasforma anche proprio fisicamente oltre che giuricamente il il limite tra pertinenze pubbliche e pertinenze private. Per capirci le strade cominciano a perdere eh la loro rigorosa eh configurazione eh antica e cominciano a assumere una nuova che è del tutto medievale. Eh dapprima questo può succedere evidentemente e probabilmente a Bevagna è successo per ragioni di carattere contingente ma poi corrisponde ad un nuovo modo di vedere lo spazio urbano e quindi ad un nuovo modo potremmo dire così di riprogettarlo no? Eh a Bevagna materialmente cosa accade? Beh lo vediamo in maniera molto netta se noi eh osserviamo eh cominciamo a osservare più da vicino diciamo così eh le strutture che compongono eh lo la il tessuto urbano quelle pubbliche quelle private gli edifici e e le strade o le piazze eh evidentemente eh e qui entra in gioco appunto la considerazione del rapporto tra contiguità e trasformazione. Perché? Eh perché eh se è evidente la permanenza di molte tracce della città antica il percorso della Flaminia continua a essere una direttrice importante anche nella città medievale. Molti edifici continuano ad avere una loro permanente forza all'interno del nuovo tessuto eh urbano. Eh molti tratti di strada anche di quelli secondari potremmo dire in antico eh hanno una loro permanenza ma nella generalità tutte queste strutture si trasformano. Se ne trasforma l'uso per gli edifici soprattutto. Se ne trasforma la configurazione formale cioè topografica e formale cioè per le strade per esempio. Le strade che una volta erano dritte cominciano a diventare curviline e la Flaminia da questo punto di vista nel tratto interno alla città medievale di di Bevagna è veramente un esempio eh di estrema eh di estremo significato. Eh avete probabilmente osservato come in in tutto eh questo mio discorso iniziale ho tenuto due punti fermi che sono fondamentali per lo sviluppo anche eh dello studio sulla sequenza successiva delle vicende storiche eh di di Bevagna nel corso del medioe. Eh e sono sostanzialmente due temi storiografici di grandissima importanza. Questo a testimonianza eh del fatto che anche quando si studia una realtà una realtà così contenuta e potrebbe apparire così contenuta come quella eh di Bevagna in realtà i riferimenti con la dimensione come dire della storia grande no? Si si potrebbe affermare sono rapporti strettissimi. Eh una chiave di lettura per le nostre vicende eh è sicuramente quello del rapporto tra le strutture insediative, la loro costruzione, le loro trasformazioni e l'evoluzione della società locale ma in genere delle strutture eh politico-amministrative eh funzionali in cui la società si vive e si sviluppa. L'altro l'altro tema fondamentale o meglio l'altra chiave di lettura fondamentale eh è quello di un eh come dire legame che è assolutamente più univoco no? Fatto di interazioni eh a a scale diverse tra una dimensione macro potremmo dire cioè la dimensione grande eh della eh della struttura per esempio eh del del territorio della sua gestione politica del sistema infrastrutturale delle sue vicende e la dimensione invece locale a scala ehm a scala locale cioè la dimensione micro eh potremmo dire eh questa riflessione eh su Bevagna tra antichità eh e medioevo eh conferma una cosa che chiunque eh si occupi di storia eh sa perfettamente e cioè che non è possibile eh distinguere eh nettamente la dimensione della macro storia dalla dimensione della micro storia perché eh le due dimensioni sono tra loro strettamente legate e questi legami ci aiutano a capire molto anche per esempio dei significati delle trasformazioni che localmente noi possiamo verificare eh attraverso le indagini specifici che è sulle strutture materiali che siano esse alla scala urbana che siano esse alla scala territoriale o che siano esse alla scala addirittura dell'edificio eh bene eh ovviamente eh la città eh medievale per un lungo periodo di tempo eh vive una fase di difficoltà eh quasi potremmo dire potremmo leggere no ehm in controluce nelle fonti una fase di declino eh alcune delle ragioni le abbiamo già eh delineate gli essiti sono per esempio la perdita a Bevagna del ruolo eh di sede diocesana eh che aveva certamente avuto nella nell'antichità ma che non ha più nel nel medioevo eh declino eh difficoltà non significano come spesso è stato eh teorizzato potremmo dire così senza troppe verifiche non significano interruzione della storia urbana cioè la 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 città nonostante tutte queste difficoltà ha una sua continuità di vita la società urbana continua a vivere una sua vita magari più grama magari eh meno sicura eh magari eh come dire eh più legata alla sussistenza eh ma questo non le impedisce di avere dei momenti ancora per tutto l'alto medioevo di eh vitalità potremmo potremmo dire questo lo dimostrano per esempio alcune eh testimonianze eh materiali che ci raccontano di una eh attività costruttiva anche di una certa consistenza e di una certa qualità potremmo dire in particolare per età eh carolingia o forse post eh carolingia che riguarda gli edifici religiosi che vengono rinnovati almeno negli arredi liturgici cosa significa questo? Significa intanto che c'è una committenza che può permettersi di finanziare questi interventi ma poi significa anche che c'è una popolazione e questi edifici continuano a frequentare e quindi ne richiede evidentemente la sua frequentazione richiede eh un aggiornamento alle eh necessità liturgiche che via via si profilano. Bene eh ovviamente questo è come dire eh un momento eh circoscritto eh perché per trovare nuovamente eh una come dire dei segnali eh di rinnovamento urbano di grande anzi vitalità anche dal punto di vista costruttivo eh a Bevagna dobbiamo spostarci in una fase più bassa diciamo così del eh del medioevo eh e in particolare segni concreti eh di una nuova fase di sviluppo della città cominciamo a cognerli a partire dalla seconda metà eh del dodicesimo settore. Sono segnali che possono apparire scollegati no dalla dimensione urbanistica e da tutto ciò che fin qui eh ho sottolineato a proposito dei rapporti tra società e strutture materiali ma non lo sono per niente eh perché sono segnali di una tale importanza di una tale come dire prepotente evidenza eh nello spazio urbano che raccontano di altro certamente eh sono soprattutto due edifici religiosi o meglio la loro costruzione evidentemente a darci delle indicazioni eh significative proprio su questa nuova fase potremmo dire su questa svolta della storia della della città e sono eh le le due chiese che dominano ancora oggi eh la eh lo spazio principale eh della della città. Eh e sono due chiese che noi potremmo definire quasi incredibili per un centro che noi fin qui abbiamo dovuto considerare con un centro tutto sommato legato ad un'economia e ad una esistenza di sussistenza scusate il gioco di parole perché sono per dimensioni per tipologia per qualità architettonica due edifici che non solo richiedono ancora una volta una committenza eh di grande ambizione e di notevole risorse che ha disponibilità di notevole risorse evidentemente ma testimoniano anche di una altra cosa che questa committenza poteva contare su dei rapporti culturali di ampissimo raggio eh che eh influenzano in maniera determinante l'architettura di questi due edifici e questi rapporti addirittura ci portano eh alla Francia eh centrale centro occidentale anzi o sud occidentale eh con questa articolazione degli spazi ecclesiastici eh la configurazione tipologica certe scelte di configurazione tipologica e anche certe scelte strutturali per esempio eh la scelta di impianti voltati a botte che per la seconda metà del dodicesimo secolo nell'Italia centrale non è proprio una cosa eh del tutto consueta quindi ci troviamo di fronte alla testimonianza oggettiva indubitabile eh di una città che è rinata non sta per rinascere ma è rinata anzi torna a svilupparsi eh è la premessa tutto questo per un altro sviluppo eh che è di carattere economico e politico senza dubbio ma che ha rigadute dirette anche sull'aspetto eh strutturale eh della città sulle sue strade sulle sue edifici sulle sue piazze poi poi diremo eh che è eh quella della fase diciamo così comunale cioè dello sviluppo comunale eh sappiamo tutti che ehm negli ambiti eh sottoposti alla dominio diciamo della Chiesa di Roma le istituzioni comunali non hanno vita agevole e faticano a ad emergere ma bevagna può eh fruire diciamo di una condizione del tutto particolare essendosi schierata eh fin dal dodicesimo secolo verosimilmente eh con il papa nel suo confronto con l'autorità eh imperiale se ne giova e ricava da questo fatto una eh la concessione tutta una serie di autonomie eh per le istituzioni comunali che arrivano fino addirittura alla addirittura dico riferendomi evidentemente all'organizzazione dello stato dello stato papale dei domini papali addirittura la possibilità di eleggersi autonomamente un un potestà cosa non del tutto normale non del tutto consueta in questo in questo anno ehm ed è questa anche questa svolta che si eh matura che si eh manifesta nella prima metà del duecento dopo che Bevagna aveva subito un ulteriore attacco un ulteriore devastazione si parla di distruzione ma anche qui consentitemi come devo dirlo per l'alto medioevo devo dirlo anche per gli inizi del duecento eh devastato di la stazione non significa distruzione eh la il guasto di alcuni edifici non significa affatto un'interruzione della vita urbana e del suo sviluppo soprattutto lo sviluppo della struttura eh urbana ma in ogni caso eh anche qui il consolidamento delle strutture anzi delle istituzioni eh comunali significa una nuova fase eh di attività costruttive di attività urbanistiche eh per esempio condensate eh in quello che oggi appunto lo spazio eh identitario della della città eh la piazza principale che è la piazza del comune che è la piazza in cui tutti i cittadini eh si riconoscono almeno dal dal duecento eh che assume proprio in questo periodo la sua eh configurazione stabile diciamo eh diciamo così e in particolare in questo ambito la costruzione dell'edificio simbolo delle auto dell'autonomia comunale e in qualche modo un edificio è ancora qui torna il discorso del rapporto tra strutture materiali eh e società è l'edificio che la società costruisce per in qualche modo rappresentarsi peraltro eh su questo edificio abbiamo potuto contare su un primo approfondimento attendiamo uno studio più eh come dire più completo più articolato eh ma certamente questo primo approfondimento ci vorrei fornisce una serie di indicazioni estremamente eh interessanti e soprattutto ci aiuta a collocarlo meglio eh nella storia delle architetture civili dell'Italia centrale nelle nella quale storia eh del palazzo comunale o palazzo dei consoli di Bevagna eh ha ha un certamente una posizione di assoluto riguardo nonostante le trasformazioni che ha subito nel tempo eh edificio comunale prima o meglio l'edificio deputato alla gestione degli affari comunali prima poi eh carcere teatro eh funzione che in parte ancora conserva eh tutt'oggi nonostante queste innumerevoli vicissitudini nonostante gli interventi di trasformazione e di restauro detto con questo tra molte virgolette direi eh l'edificio conserva molti aspetti di estremo interesse per lo storico dell'architettura e anche per lo storico eh della città perché è un edificio che ha questa particolarità di un rapporto strettissimo tra lo spazio urbano eh e lo spazio architettonico eh con il suo grande arcone che sovrapassa uno degli accessi importanti alla piazza comunale il rapporto con la chiesa eh adiacente evidentemente ha una una grande eh come dire intenzione ma rappresenta una grande intenzione di relazione eh con la città perché questo bisogna dirlo è la città che rappresenta eh questo edificio eh o meglio quello che si trova a Siviglia avrebbe detto la Civitas l'insieme dei suoi cittadini ma anche la UPS cioè lo spazio che i cittadini costruiscono per le proprie esigenze per le proprie esigenze in Italia eh nell'ambito di questo nuova di questa nuova fase di sviluppo si innesta anche eh a Bevagna eh un altro eh tema eh di straordinaria importanza per la città eh comunale che è quello dell'insediamento degli ordini mendicati in particolare eh a Bevagna questo significa l'insediamento eh dei francescani dei frati minori anzi eh dei frati predicatori e degli eremitani di Sant'Agostino eh è interessante questo ovviamente per la storia della società perché questi ordini come sappiamo perfettamente e lo sappiamo in maniera particolare per Bevagna lo dirò eh tra un attimo eh perché eh questi ordini rappresentano in qualche modo il prodotto di quelle trasformazioni che la società ha vissuto nel corso del duecento quel passaggio eh potremmo dire da una società eh piramidale in cui i vertici aristocratici avevano un dominio assoluto eh dello spazio urbano e della dimensione della sua dimensione eh potremmo dire antropologico sociale politica eh in senso più ampio nel senso più ampio che questi termini possono assumere ad una società in cui eh quella che noi oggi definiremmo borghesia e termine che potremmo con qualche diciamo così libertà estendere anche a questa fase storica acquista una posizione previnente eh sono ordini questi che non che non derivano la loro esistenza la loro sussistenza eh da ricchezze proprie da proprietà eh ma derivano eh la loro essenza proprio dal rapporto con la società che li ospita in cui prosperano perché eh perché questa società gli eh consente attraverso le levosina eh di crescere evidentemente e di far crescere le loro le strutture nelle quali loro si insegnano i grandi commenti grandi o piccoli ma a bevagna importanti eh certamente al di là della loro della loro dimensione eh ed è interessante il modo in cui questo si esplica nello spazio urbano perché eh i Domenicani che per via del fondatore del convento eh Beleniate eh acquisiscono subito una notevole previdenza non a caso si insediano accanto al palazzo comunale eh nel centro della della città o meglio nella sua nelle sue immediate eh adiacenze mentre eh significativamente i minori e gli eremitani di Sant'Agostino si collocano ai margini della città ma in una posizione niente affatto casuale perché uno si colloca eh al limite settentrionale l'altro al limite meridionale in stretta comunicazione quale più quale meno ma insomma in stretta comunicazione ancora col percorso col percorso della via Flaminia che evidentemente eh è non solo asse strutturante eh della eh della città nel senso della sua organizzazione materiale ma anche eh un asse che continua ad avere una preminenza eh nella come dire nella visione in una visione dello spazio urbano che evidentemente dall'antichità al medioevo non si è eh modificata eh di molto se si è trasformata molto nella sua forma potremmo dire eh non ha perduto la sua eh essenza grazie è molto interessante poi voi sapete che io ho un debole per Bevagna è sicuramente un posto imperdibile per tutti gli appassionati di medioevo ma come avete appena sentito non solo per gli appassionati di medioevo quindi l'importante è che voi ci facciate un giro e per farci un giro dovete comprare questa pubblicazione perché così capite molto meglio quello che avete di fronte quello che potete ammirare io ne ricordo il titolo che è Bevagna dall'antichità al medioevo dicendo urbanistiche ed emergenze monumentali a cura di Maria Romana Picuti e Guglielmo Villa che abbiamo avuto il piacere di avere i nostri ospiti appena pubblicato da Futura Libri quindi non fatevi scappare questa opportunità andate a vedere Bevagna andate a soggiornare a Bevagna e vedrete che ne vale davvero la pena io ringrazio tantissimo i nostri ospiti e vi do appuntamento alla prossima video presentazione grazie ancora grazie a te 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 a te grazie 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 a